Davide, quali sono le domande essenziali che ci dobbiamo fare quando creiamo un personaggio? Innanzitutto è bene ricordare che i personaggi più riusciti nascono quasi da soli, nel senso che si insinuano nella testa dello scrittore e spuntano fuori con prepotenza, perché sono il risultato di esperienze, letture e riflessioni che poi abbiamo elaborato quasi del tutto inconsciamente. Ciò detto, ovviamente, anche il personaggio più spontaneo ha bisogno di essere indagato e rifinito. Affinché il personaggio risulti credibile e completo, è importante che ci interroghiamo sul suo passato, sui suoi desideri, su come parla e su come pensa. Anche se poi non inseriremo tutte queste informazioni nella storia, è opportuno averle presente nella nostra testa, perché conferiranno sicurezza e credibilità al modo in cui facciamo muovere, parlare e reagire il personaggio. Questo vale in generale anche per i personaggi secondari. Se poi parliamo di un personaggio principale o del protagonista, è necessario chiederci cosa cambierà in lui o in lei alla fine della storia e quali passaggi lo porteranno a quel cambiamento. È la traiettoria del personaggio, che è importante fissare abbastanza presto nella scrittura, così da poter mantenere la rotta senza perdersi per strada. Un'ultima nota. Nessun personaggio si costruisce a tavolino prima di iniziare a scrivere. La creazione è un processo dialettico, un andare e venire tra la scrittura e la riflessione, tra l'istinto e il ragionamento. Solo così possono nascere personaggi vivi, autentici e originali. Davide, come si racconta l'interiorità dei personaggi? La soluzione più semplice, quella che viene più naturale, è inserire le cosiddette sequenze riflessive, cioè dei brani di testo in cui la voce narrante riporta i pensieri del personaggio e le sue emozioni. Questo si può fare in vari modi. Se abbiamo un classico narratore onnisciente che parla in terza persona, questo narratore ci può raccontare per filo e per segno ciò che avviene nell'interiorità del personaggio, e può persino spiegarci le motivazioni profonde che stanno dietro a certe sue reazioni emotive. Insomma, il narratore onnisciente, per definizione, sa più cose del personaggio di quante ne sa per il personaggio stesso. Se invece raccontiamo in prima persona, sarà il personaggio che ci rende partecipi del suo mondo interiore, magari trasmettendoci anche i suoi pregiudizi, le prospettive falsate, gli autoinganni, tutte quelle cose che rendono parziale e inaffidabile la percezione soggettiva delle cose. Proprio per via di questo relativismo di fondo, probabilmente, la scelta di far raccontare la storia a un personaggio che parla in prima persona è stata molto popolare nel Novecento, e continua a esserlo ancora oggi. Il caso limite, uno dei più famosi, è quello della Molly Bloom di Joyce, nel monologo finale dell'Ulisse, ma di esempi se ne trovano tantissimi, dal Holden di Salinger al Portnoy di Philip Roth. Comunque, le sequenze riflessive non sono l'unico modo per raccontare l'interiorità, e non sempre rappresentano il modo migliore. Un testo troppo pieno di pensieri e di riflessioni, infatti, può facilmente risultare stucchevole se non è gestito con grande maestria. Ricordiamo, perciò, che un autore capace sa raccontarci ciò che i personaggi pensano e provano, soprattutto attraverso i loro gesti e le loro parole. Invece di dire che un personaggio prova rabbia, possiamo fargli scagliare in terra un oggetto. Invece di dire che sta pensando a una ragazza di cui si era innamorato al liceo, possiamo fargli introdurre in un dialogo un accenno apparentemente immotivato a quel periodo della sua vita. Mostrare, invece di dire, è più efficace, perché coinvolge l'intelligenza del lettore nella costruzione della storia. Flavia, perché alcuni personaggi sono più memorabili, quasi mitici, di altri? Vi è mai capitato di ritrovarvi tra le mani una foto dei vostri compagni di classe e aver dimenticato tutti i cognomi, tranne uno? Di quel compagno o di quella compagna ricordate persino come era vestito o vestita il giorno del diploma o quando siete partiti per la gita di fine anno. Eppure non è la compagna o il compagno che vi piaceva, con cui avete sognato di stare insieme dal primo momento in cui l'avete vista o visto. E allora cos'è che l'ha reso o resa così indimenticabile? Magari come piegava la testa e sistemava i capelli dietro l'orecchio ogni volta che le interrogavano. Oppure per quel modo in cui storpiava il vostro nome e ve lo faceva odiare. O per quello che ha detto quel giorno, in cui non avevate nessuna voglia di fare occupazione e che vi ha fatto restare lì, insieme a tutti quanti gli altri. E non c'entra niente il fatto che eravate giovani, che adesso avete almeno il doppio degli anni che avevate allora. Se ve li ritrovaste di nuovo davanti, stareste ben attenti a non fare lo stesso errore, a non farveli scappare più. Lo stesso vale per i personaggi. Qualcuno diceva, di soltanto una parola e io sarò salvato. È la stessa preghiera che vorremmo rivolgere noi al protagonista di un romanzo a cui manca qualcosa, che semplicemente scivola via, di cui perdiamo le tracce, di cui facciamo fatica a ricordare persino il nome. Vorremmo che fosse lui a salvarci, e non l'ultimo dei suoi servi, che entra in scena giusto il tempo necessario ad aprire una tenda, a rifare un letto, a sollevare un cuscino da terra. È solo un'ombra che appare e scompare, eppure continuano a pensarci. Perché? Cos'è che rende quel servo così indimenticabile, memorabile? Qualcosa che ci sorprende. Anche un movimento minimo, un dettaglio. Quel dettaglio e quel movimento minimo sono capaci di prenderci e tenerci lì, di sfilare via tutti i punti di sutura, a uno a uno e uno dopo l'altro. Sono capaci di salvarci, di farci intravedere che dopo quell'ultima frase, parola, dopo quell'ultimo punto del romanzo, non c'è più un precipizio, un burrone di cui non vediamo la fine. Quel gesto ha cambiato tutto, ha tirato le somme di quello che siamo, chiamata a raccolta tutti i nostri ricordi, e ce ne ha dati degli altri, di nuovi. Più felici o infelici, poco importa. Quel gesto e quel servo, proprio quando tutto sembrava finito, il romanzo era finito, hanno smesso di farci sentire così in pericolo e soli. Farmacia Letteraria, un podcast della Scuola di Scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale. 351-877-9461 Radio Genius Se ti piace, metti mi piace.